Noi siamo sicuri di questo. Dio fa tendere ogni cosa al bene di quelli che lo amano, perché li ha chiamati in base al suo progetto di salvezza. Da sempre li ha conosciuti e amati. E da sempre li ha destinati ad essere simili al figlio suo, così che il figlio sia il primo genito fra molti fratelli. Eccomi, figli miei! Vi siete mai chiesti perché io vengo a voi, proponendovi di meditare la Sacra Scrittura? Molti miei servi ve la spiegano in modo lodevole, eppure, io personalmente vengo con insistenza, a riproporvi l'invito ad accostarvi alla parola di Dio. Quando il padre si ripete è perché il figlio è un po' sordo. Voi avete il privilegio di essere nati in seno alla Chiesa, avete ricevuto i sacramenti e vi professate cristiani. Molti di voi però hanno ricevuto una chiamata che di fatto non hanno accolto, e sono quindi peggio di altri, che non hanno avuto quest'opportunità. Voi siete un po' sordi. La parola di Dio è pane di vita e luce sul cammino. La parola di Dio vi custodisce nella verità. La parola di Dio vi istruisce e vi trasforma. La parola di Dio vi fa correre sulle vie della santificazione. Non basta ascoltare le letture quando si partecipa alla messa. La parola, come vi ho detto, è pane per l'anima. Se date cibo ogni giorno al vostro corpo, perché non lo date anche alla vostra anima? La parola di Dio va letta, meditata e contemplata. La parola di Dio è un seme, che se trova il buon terreno nel vostro cuore, cresce giorno dopo giorno, e diventa sempre più forte e robusta, fino a che diventa una grande pianta. La parola è viva e, sa lenire le vostre sofferenze e guarire le vostre ferite. La parola sa guidarvi nel cammino di ogni giorno, e sa fortificare la vostra fede. Il sacerdote nella celebrazione eucaristica bacia la parola di Dio, e voi invece non gli date importanza. Il sacerdote è il pastore al quale dovete guardare, per imparare la via che conduce a Cristo. Il sacerdote parla, e voi non ascoltate. Io parlo attraverso il sacerdote, e voi non ascoltate. Stolti. Dice l'Apostolo che Dio fa tendere ogni cosa al bene, e dice di essere sicuro di questo, rendendo testimonianza a Dio. Voi invece non siete affatto sicuri di questo, e accogliete tutto ciò che esula dai vostri pensieri e progetti, con ribellione o al massimo con rassegnazione. Siete troppo spesso tristi e dite di credere in Dio. Voi non siete testimoni del risorto, ma siete testimoni delle vostre paure e dell'avversario, che vi tenta con molto successo. Poveri figli miei. Svegliatevi. Siete chiamati a vivere nella libertà dei figli di Dio e nella gioia dei salvati. Siete chiamati alla speranza della gloria futura, e alla vita divina nel tempo presente. Siete chiamati. Ma come rispondete?